Grazie. A prossima, relatrice, l'onorevole Seracchiani per due minuti. Grazie, Presidente. Ad oggi l'accesso all'occupazione è regolato soltanto per alcune specifiche categorie di cittadini di paesi terzi. Non beneficiano infatti tutti del principio generale della parità di trattamento nell'accesso all'occupazione. In questo contesto l'Unione Europea deve muoversi per garantire un equo trattamento sia ai cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente all'interno degli Stati membri, sia ai beneficiari della qualifica di rifugiato o di persona bisognosa di protezione internazionale, ai sensi della Direttiva 83 del 29 aprile 2004. È necessario evitare che ci sia una crescente richiesta, ad esempio, di personale stagionale solo perché pagato meno o perché ha dei costi diversi, minori, rispetto ad un cittadino europeo reclutato per lo stesso lavoro. Si deve evitare, ad esempio, il rischio che molte multinazionali spostino agli headquarters in paesi come il Marocco o la Turchia e mandino i loro impiegati a lavorare nelle filiali europee perché più economico. Per ragioni di giustizia sociale, garantire lo stesso trattamento dei cittadini europei in termini di remunerazione, condizioni di lavoro e sicurezza sociale è fondamentale. Per questa ragione ritengo giusto che i lavoratori stagionali, quelli distaccati, i rifugiati e i lavoratori autonomi siano inclusi in questa direttiva. Fare delle differenze diventerà estremamente pericoloso. Grazie. Buonasera cari colleghi, sono appena arrivato da Francoforte, c'è stato un traffico tremendo, un ingorgo e spero di non far troppi errori nella perdona.